La pirateria non è tre E' un crimine grave piratare i canali televisivi secondo le leggi sul copyright Per ulteriori informazioni contattare il proprio operatore via cavo Spirinati Ehi, sei soldo o cieco? Ti abbiamo detto di spegnere la tv e ancora non l'hai fatto per favore Spegni la tv se non ti do altre punizioni I criminali sono banditi su Rai3 E basta per i bravi italiani e non per i criminali come se non senti da più Ehi, sei soldo o c'è? 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 Grazie a tutti.